Nella notte tra mercoledì e giovedì Giorgia Soleri ha pubblicato una storia in cui si è sfogata contro degli hater che l'hanno criticata tirando in ballo l'endometriosi. In tutto ciò sono le 5 del mattino e io sono sveglia da ore perché non sto bene. Ieri avevo dei programmi a cui ho dovuto rinunciare. A causa della malattia. NDR. E ora devo pure sorbirmi questa gente che dopo due minuti si sente in diritto di negare il mio dolore. Poche ore dopo l'influencer ha disattivato i suoi profili Twitter e Instagram. Sul web hanno iniziato a circolare voci di una possibile crisi con Damiano De Maneskin. Che secondo Selvaggia non sarebbe in buoni rapporti con Victoria. Ma il motivo della pausa dai social in realtà avrebbe a che fare con i duri attacchi e le offese ricevute negli ultimi giorni. Giorgia Soleri. Il post sull'endometriosi. Da qualche parte ho letto che se ascolti davvero una persona. L'endometriosi non è mai stata realmente così silenziosa. E silenziosa. Nel mio caso. Non è stata mai. Urlava come avrei voluto urlare io dopo le decine e decine di visite fatte snocciolando i miei sintomi uno dopo l'altro per sentirmi dire. In continuazione. Che ero in perfetta salute. Come avrei voluto urlare quando il dolore era così forte da farmi rimettere e svenire. Quando a 14 anni ho avuto il menarca e mentre tutti erano entusiasti io scoprivo troppo presto un corpo che ti si rivolta contro. Come avrei voluto urlare durante i miei troppo presenti ingressi al pronto soccorso. E come le infinite volte in cui mi sono sentita dire che ero esagerata, drammatica, ipocondriaca, con la soglia del dolore bassa. Invece a stare in silenzio son stata io. Per undici lunghi anni. Accompagnata da un senso di inadeguatezza che mi nauseava quasi quanto quel dolore che a un certo punto ha iniziato ad attanagliarmi le pelvi come una dolorosa cintura di spine. Un anno fa, il 21 marzo, ricevevo la mia diagnosi di endometriosi e adenomiosi. Cinque mesi dopo, il 20 agosto, finivo sotto i ferri sperando di poter finalmente iniziare una vita lontana dal dolore. Sono stata fortunata. Non sempre è così. L'intervento ha ampiamente diminuito la sintomatologia dolorosa legata all'endometriosi. Ma ad oggi una cura definitiva ancora non c'è. Gli anni di ritardo diagnostico continuano ad essere 7-10 pur colpendo. Si stima. Al ribasso. Uno persone assegnata femmina alla nascita su 10.